amici cosa fate con patate così voi sicuramente questi li buttate via vero e invece questi sono i germogli di patata che si possono tranquillamente piantare guardate mettiamo via in questo modo vedete anche questi sono termogli anche questi se sono anche anche se sono piccolini in questo modo qui non fa niente sono sempre germogli ed ora andiamo a piantare ed ora piantiamo i germogli ecco via togliamo le foglie ma lasciamole anche le foglie perché tanto le foglie sono il composto il composto naturale mettiamola appena sotto sottoterra così appena appena su così ed ecco qua e queste diventeranno tutte patate dopo cinque giorni ecco le nostre patate guardate questa anche sta incominciando a nasce questa qui vedete anche ancora più piccolina ma questi sono già più grandi anche queste patate vedete togliamo l'erba che sta intorno anche qui abbiamo un'altra sono già belle consideriamo che ogni pianta saranno come minimo 5 6 7 patate e siccome noi l'abbiamo messe in una terra abbastanza fertile diciamo verrà ogni patata all'incirca così se non più grande è è è è è è è è è